Il 23 se può andare in ufficio per il DNA di uno scarcerato. Il 24 se può andare in ufficio per il DNA di uno scarcerato. Il 24 se può andare in ufficio per il DNA di uno scarcerato. Il 24 se può andare in ufficio per il DNA di uno scarcerato. Il 24 se può andare in ufficio per il DNA di uno scarcerato. Il 24 se può andare in ufficio per il DNA di uno scarcerato.